La Soaco ha proposto al commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa un miglioramento strutturale dell'aerostazione con la realizzazione di due nuovi gate al primo piano che consentirebbe ulteriormente la crescita del traffico aereo. Il progetto del miglioramento dell'aerostazione è già definitivo ed è all'esame dell'ENAC per l'approvazione. Tale progetto, secondo la proposta Soaco, potrebbe essere finanziato con i fondi Ex-Insicem destinati inizialmente alle incentivazioni delle rotte mettendo così da parte il bando che è andato deserto già tre volte. I vertici di Soaco hanno formalizzato la proposta al commissario straordinario Dario Cattabellotta dopo l'incontro dei giorni scorsi che faceva seguito alla riunione del Comitato di Controllo dei Fondi Ex-Insicem quando è stato deciso di verificare con la governance della società che gestisce l'aeroporto Casmeneo se era opportuno insistere con il finanziamento di 1.600.000 euro per le incentivazioni delle rotte oppure, come accennato, valutare una proposta alternativa. I vertici di Soaco hanno illustrato a Cattabellotta che il miglioramento strutturale dell'aerostazione non è più procrastinabile e quindi sarebbe oltremodo utile utilizzare il finanziamento dei fondi Ex-Insicem per questa finalità, considerato anche la fase avanzata della progettazione. Intanto, proprio in riferimento a Soaco, si è registrato un nulla di fatto nell'ambito della riunione di ieri a Catania per il rinnovamento del Consiglio di Amministrazione volto a rilanciare l'aeroporto di Comiso. Alla luce dell'infruttuoso esito, se ne riparlerà venerdì prossimo ultimo giorno utile. Il modicano Peppino Giannone è stato invece nominato presidente di Intersac.